Sarà un Natale amaro per due lavoratori dell'ACCAM che sotto l'albero, anziché Pandoro e Panettone, hanno trovato una lettera di licenziamento. Una situazione paradossale che a pochi giorni dal Natale ha voluto denunciare il segretario regionale della CISA all'FPC, Piero Peretti, che chiede un intervento forte della politica. Posto che i licenziamenti vengono impugnati, che cosa è accaduto? SM è subentrata d'ACCAM nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti al comune di Pizzoli e contrariamente a quanto previsto dal contratto di settore di Ceperetti, l'ASM non ha ritenuto opportuno ricollocare questi due operai specializzati e che svolgono quelle mansioni da tempo e così l'ACCAM ha scritto loro la lettera di licenziamento per fine appalto. È accaduto un vero e proprio crimine occupazionale, io così lo ritengo, perché nel momento in cui l'ASM subentra nel servizio di gestione e rifiuti nel comune di Pizzoli c'era l'obbligo contrattuale che avrebbe dovuto prendere anche il personale che danni operava in quel settore e che è dipendente dell'ACCAM, che è l'azienda che è sostanzialmente andata via. Si è innescato questo braccio di ferro tra ASM e ACCAM, ASM ritiene di non rispettare quell'articolato, quindi quella clausola di salvaguardia. ACCAM di tutta risposta, anziché ricollocare il personale e muovere azioni legali nei confronti di ASM, ha ritenuto opportuno licenziare in tronco questi due lavoratori per cessazione di appalto. È una cosa estremamente, secondo me, grave e scandalosa, parliamo di due partecipate, sappiamo che anche in questi giorni l'ASM ha emanato un bando per l'assunzione di 20 persone, sappiamo pure che dal 13 il servizio al comune di Pizzoli sta continuando, quindi c'è del personale che svolge probabilmente il lavoro al posto di questi due che sono stati licenziati. Impugneremo sicuramente il licenziamento combinato da ACCAM e faremo contestualmente anche la rivalza nei confronti dell'ASM che secondo noi non può lasciare a piedi questi due lavoratori. Per il sindacalista le soluzioni c'erano e le beghe tra gli amministratori delle due municipalizzate mettono in mezzo alla strada di fatto due famiglie. Peretti ha lanciato anche un appello ai sindaci di Avezzano, l'Aquila e Pizzoli perché prendano in mano la situazione ed evitare questo Natale amaro per i due operai.